Salve a tutti e buon venerdì! Oggi vediamo insieme le anticipazioni di Beautiful che vanno da lunedì 8 a sabato 13 febbraio. Iniziamo! Come sapete, Hope è convinta di averla combinata grossa. La ragazza crede di aver ucciso Thomas, spingendolo in una cisterna piena d'acido. Intanto, combatte con Ridge, che accusa lei e Brooke di aver manipolato suo figlio affinché firmasse i documenti per l'affidamento di Douglas. La cisterna dove Thomas è caduto viene pulita e non viene trovato nulla di particolare. Ciò non tranquillizza di certo Hope, perché crede fermamente che il giovane si sia sciolto. La ragazza tenta di andare a raccontare tutta la verità a Ridge, ma sua madre la blocca. In seguito, le due donne iniziano a rasserenarsi. Perché alla fine, quelle di Hope sono solo ipotesi. Non esistono prove concrete che accertano la morte di Thomas. Intanto, le ricerche del giovane proseguono. Steph, infatti, continua a telefonare a suo fratello. Ma questo risulta irraggiungibile. Ridge, dal canto suo, inizia a credere che suo figlio sia andato via. Di proposito, mostrando poco interesse nei confronti del suo bambino. Il Forrester inizia a sentire dei sensi di colpa per come ha trattato Brooke e Hope. L'assenza di Thomas si fa martellante e la preoccupazione di Ridge aumenta. L'uomo appare distrutto, così Hope decide di fare la cosa giusta. Anche se la madre continua a dirle di non farlo, vuole confessare tutto sia a Ridge sia alla polizia. Ma alla fine accade qualcosa di inaspettato. Il nostro caro Thomas si prepara a tornare. E con le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana ci fermiamo qui. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì, come sempre, su questi schermi.